Gli ultimi episodi criminali successi a Pesaro, la donna sfigurata con l'acido e l'omicidio ferri, fanno sì che la famosa isola Felice non sia più tale. Le forze dell'ordine in entrambe i casi sono risalite ai malviventi. Il prefetto di Pesaro plaude l'operato dei militari, ma allo stesso tempo traccia un profilo del territorio. Il territorio della nostra provincia è un territorio che, come tutti i territori ormai nazionali, senza più distinzione di sorta, è oggetto di atti che fino a poco tempo fa forse erano, non dico del tutto sconosciuti, ma comunque veramente lontani nella memoria della gente. Il prefetto parla di crisi economica e di conseguenza di disagio. Disagio tra la popolazione, che a volte sfocia anche in episodi criminali. I successi delle forze di polizia non possono di per sé essere un dato sufficiente nemmeno per partire da un'analisi. Devono essere un punto di un percorso che, io ho ripetuto in tante occasioni, va proseguito, va con ostinazione fortemente. Un percorso che deve vedere coinvolte tutte le forze in una cornice di unità, con iniziative che comunque non possono oggi più permettersi di avere voce fuori dal coro. Se devono partire iniziative bisogna preparare il terreno in modo unitario, in modo che siano portate avanti con la stessa forza e da tutti. Disagi anche all'interno delle forze dell'ordine, tra questi la carenza di personale. Indubbiamente è vero, non si può negare che le forze di polizia sono oggettivamente carenti anche rispetto alle piante, non solo rispetto alle esigenze del territorio, ma anche rispetto alle piante organiche così come sono previste. C'è qualcosa comunque che, secondo il prefetto, si potrebbe subito migliorare. Certamente aiuterebbe molto il sistema complessivo, la possibilità di avere, di fare leva su una certezza, innanzitutto sul rispetto delle regole assoluto, quindi un problema culturale che deve essere affrontato in modo determinato e determinante. E poi sono accompagnatori a questo sistema culturale, primo fra tutti, cominciare a ragionare per avere una certezza della pena.